Musica Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura alla cronaca sono 7 le persone arrestate a seguito del blitz che i carabinieri hanno effettuato all'alba nel quartiere Iapigia di Bari. Si tratta di 4 uomini e 3 donne, tutti manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato in quanto sorpresi all'interno dell'abitazione di famiglia a confezionare ogni genere di droga. Nello specifico sono stati trovati 97 grammi di cocaina, 1 chilo e 200 grammi di hashish e 124 grammi di marijuana. Tutta la sostanza rinvenuta era suddivisa in dosi pronte a essere vendute per strada. Al termine delle operazioni, su disposizione dell'autorità giudiziaria, gli uomini arrestati sono finiti nel carcere di Bari, mentre le tre donne sono state condotte nel penitenziario femminile di Trani. Il sindaco di Parma e il leader di Italia in Comune Federico Pizzarotti annuncia la presentazione di una lista per le prossime regionali pugliesi. L'annuncio in un incontro alla presenza di Michele Emiliano. Nessun candidato per le primarie, ma certamente ci sarà una lista che correrà per le prossime elezioni regionali. Italia in Comune svela le carte per la competizione elettorale di maggio in Puglia e lo fa con il suo leader nazionale Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, che nel 2016 lasciò il Movimento 5 Stelle per fondare un nuovo soggetto politico basato sul civismo. Da quel giorno Italia in Comune è cresciuta trovando numerose adesioni e anche qui, dove forse è riuscita maggiormente a raccogliere consensi, sceglie di fornire, come in altre regioni, il proprio contributo alla coalizione di centrosinistra. Un'alleanza già immaginabile che però Pizzarotti ha voluto certificare seduto accanto a Michele Emiliano. In una casa oggi ci candidiamo alle elezioni regionali all'interno della coalizione di centrosinistra e anche questo è avvenuto in altre regioni per creare un cappello nazionale al civismo che in Italia è sempre stato abbandonato a se stesso. Intanto si guarda la composizione delle liste per le regionali. Italia in Comune vanta al suo interno un numero cospicuo di amministratori locali, alcuni di questi in scadenza di mandato e che sicuramente tenteranno l'approdo in consiglio regionale. Vedi per esempio il sindaco di Capurso Francesco Crudele. Michele Abaticchio, che invece proseguirà il suo mandato come sindaco di Bitonto, stima un avanzamento nella composizione delle liste già al 70%. C'è un gruppo storico di sindaci civici che aveva già fatto rete nella precedente competizione nella città metropolitana di Bari. Avevamo già un nucleo in cui tutti eravamo legati, ci sentiamo legati uno con l'altro nel barese e poi da quel nucleo è fiorito un gruppo ancora più solido. Gli studenti scendono in piazza questa mattina, assemblea pubblica in piazza Cesare Battisti organizzata da Rete della Conoscenza. Ascoltiamo le ragioni della protesta. Gli studenti scendono in piazza, quali sono le ragioni di questa assemblea? Oggi sono scesi in piazza sia studenti medi che studenti dell'università per chiedere una serie di investimenti relativamente al diritto allo studio. In particolare gli studenti medi chiedono degli investimenti rispetto all'edilizia e ai trasporti. Infatti chiederemo un incontro alla città metropolitana del sindaco De Caro per capire un piano di investimenti straordinario sull'edilizia scolastica in particolare per le scuole della provincia che purtroppo hanno delle problematiche consistenti nella vivibilità delle scuole e quindi vanno a intaccare il diritto allo studio dei singoli oltre al fatto che anche i trasporti in città sono evidentemente problematici sia per chi si sposta dalla periferia sia anche per chi si muove all'interno della città quindi sia studenti medi che studenti universitari anche rispetto a quelli che sono i costi dei trasporti. Quindi noi chiediamo un'intensificazione delle corse trasporti gratuiti, trasporti più sicuri e anche corse notturne o comunque che consentano agli studenti di vivere la città piena. Infatti abbiamo lanciato una campagna che si chiama Scuola, città e università del futuro proprio per andare a immaginare una città che sia a misura di studente in tutto e per tutto. Queste richieste voi le avete raccolte in un documento che consegnerete al sindaco metropolitano Antonio De Caro? Sì, noi abbiamo oggi stilato un documento assieme alle scuole che hanno partecipato alla mobilitazione e abbiamo anche lanciato un questionario rivolto a tutti gli studenti e studentesse di Bari e provincia con il quale stiamo raccogliendo una serie di dati e la strutturazione poi della proposta l'andremo a portare appunto in un documento unico che presenteremo al sindaco. Quanto costano i danni a cose e persone causate dalle cattive condizioni del manto stradale a Bari lo scopriamo nel servizio. Calano i sinistri la cui responsabilità è imputabile al comune di Bari e con questi le spese per risarcimento in fase stragiudiziale. Si passa dai 1.262 incidenti denunciati del 2013 ai 562 dell'anno in corso dati fermi al 31 ottobre con un aumento significativo dei pagamenti effettuati dalla compagnia di assicurazione che da un rapporto di circa un caso gestito ogni 18 passa a uno ogni 28. Il dato non di poco conto è influenzato anche dall'abbassamento nell'ultimo anno della franchigia il massimale che determina il danno che resta a carico dell'assicurato e che da 20.000 scende a 15.000 si concretizza in un risparmio per le casse di palazzo di città che aumenta progressivamente di anno in anno. Un po' più nello specifico se tra il 2013 e il 2014 l'entità del risparmio si aggirava attorno ai 223.000 euro dallo stesso anno ad oggi sale a 477.000 circa. E' migliorata la qualità delle nostre strade? Significa che è decisamente migliorata la qualità delle nostre strade e se immaginiamo che questo periodo e anche un periodo di crisi lì dove qualsiasi accadimento possa dare titolo a un ristoro di danni certamente viene utilizzato dalle persone ci rendiamo conto dove facilmente come la riduzione del numero dei sinistri sia indiscutibilmente affiancata proprio da una minore pretestosità o minori accadimenti che si verificano sulle nostre strade. Un fenomeno insensibile ripresa quello del commercio illegale di sigarette di contrabbando a sottolinearlo le fiamme gialle che nel corso di una perquisizione avvenuta presso il domicilio di un soggetto a Mola di Bari hanno scoperto 30 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando suddivisi in 1.132 pacchetti di sigarette e 33 barattoli di puro tabacco delle marche Marlboro, Chesterfield e Camel l'uomo ritenuto responsabile del traffico illecito è stato deferito all'autorità giudiziaria mentre tutta la merce è stata sequestrata sono in corso indagini per risalire alle rotte di approvvigionamento delle sigarette individuare eventuali altri responsabili del contrabbando che nell'ultimo periodo sembra aver avuto una notevole ripresa sia sotto il profilo delle quantità importate che della vendita. Un capannone in disuso usato da alcuni operai come deposito temporaneo di rifiuti di ogni tipo è la scoperta della polizia locale di Bari che ha messo i sigilli a una struttura abbandonata di via Napoli gli agenti hanno sorpreso all'interno una squadra di operai intenti a recuperare apparecchiature elettroniche fuori uso rifiuti da attività edilizie di demolizioni metalli varie, carte e cartone non differenziati vetro e apparecchiature domestiche in disuso tutti rifiuti destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati due persone sono state così denunciate per il reato di discarica abusiva mentre il capannone è stato sequestrato parallelamente è stata avviata la procedura per la bonifica del sito è in vigore da ieri l'obbligatorietà dei seggiolini con dispositivo anti-abbandono in auto per i bambini fino ai 4 anni il comandante della polizia locale di Bari il generale Michele Palumbo ha spiegato nel TB Talk di Telebari i dettagli della circolare ministeriale qui abbiamo un problema operativo perché la circolare ministeriale di interpretazione è più che altro che operativo perché il ministero dell'interno che dà direttive per gli organi di polizia stradale ha diramato il 6 luglio una circolare nella quale ha detto, ha affermato e ha dato l'indirizzo operativo agli organi di polizia stradale che dal 7 novembre, cioè da oggi vanno sanzionati tutti coloro che non hanno il seggiolino con il dispositivo anti-abbandono naturalmente c'erano già in produzione e in distribuzione seggiolini di questo tipo ma sicuramente forse non sono sufficienti per la platea dei clienti di chi lo deve acquistare è importante ci sarà un momento sicuramente di elasticità però voglio dire la legge c'è, la disposizione la direttiva ministeriale c'è dal 7 novembre è sanzionabile chi non ha un seggiolino senza dispositivo anti-abbandono però un po' di tolleranza ci sarà la tolleranza però guardi, dobbiamo fare attenzione alla sicurezza dei bambini è scomparso la notte scorsa intorno alle 3 e 30 il cantante Fred Bongusto l'artista originario di Campobasso aveva compiuto 84 anni lo scorso 6 aprile e da tempo lottava contro alcuni problemi di salute noto in tutta Italia per i suoi testi e le sue canzoni come una rotonda sul mare o bagliamo Fred Bongusto ha avuto anche una parte attiva nella vita politica con una carica da consigliere al comune di Bari negli anni 90 infatti fu eletto con i socialisti rimase in carica per due anni i funerali si terranno a Roma lunedì 11 novembre nella Basilica di Santa Maria in Montesanto Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo l'informazione termina qui vi ricordo che per notizie e aggiornamenti potete consultare il nostro sito www.telebari.it grazie per averci seguito a più tardi con informazione di Telebari il meteo è offerto da sgservicesud.it ben trovati da Nikos di Trevi Meteo giornata di sabato che vede un graduale miglioramento durante la mattinata sulle regioni settentrionali la zona di bassa pressione però insisterà su parte del centro sud con venti carichi di umidità e fenomeni soprattutto sul medio basso versati tirrenico anche la Sicilia vedrà brevi piovaschi andiamo a vedere la grafica della nuvolosità perché ci conferma al primo mattino ancora un po' di nuvolosità al nord poi rasserenamenti sempre più ampi in arrivo da sud quindi insomma un po' di sole lo ritroveremo sulle regioni settentrionali invece gran variabilità sulle regioni centro-meridionali la prossima grafica ci evidenzia occasionali fenomeni soprattutto sul basso di Reno la Sicilia, la Calabria, la Basilicata qualcosa arriva anche sulla Puglia meglio invece al nord migliora anche sulla Liguria con maggiori rasserenamenti in giornata un po' di sole ultimissimi fenomeni solo sulle Alpi settentrionali le temperature unileva aumento al nord il lieve caldo invece al centro sud dettagli maggiori approfonditi scaricando l'app di Trabi Meteo il meteo è offerto da SGServiceSud.it